La colazione di papà al mattino. Spiegaci. Questo è orzo. O forse caffè, o forse... Orzo o caffè, tre cucchiaini. No, forse quattro. Forse quattro. Non si capisce cosa sia, eh? Zucchero. Zucchero. Invece è... Che sembra zucchero, ma è... Latte l'ho utilizzato. Quanti cucchiaini? Due e qualcosa. Due e qualcosa. Poi... Non sbagliarsi a mettere il tè. Ok. Come ho fatto ieri. Come ho fatto ieri. Mettere acqua. Mettere acqua calda. Cosa viene? Capucino. Oh, mamma. Sono le sei precise. E noi? Con il nostro pulmino? Siamo pronti per partire andare a Pammuccare. Qui stiamo alle piscine di Pammuccare. Come quelle di Ossì. Non si vede l'abitudine. Guardate l'aspettacolo. Anto fa il bagno. Non si vede l'aspettacolo. Non si vede l'aspettacolo. Eccoci arrivati al famoso sito archeologico Perge. Metodo? La preparazione del faraone. La preparazione del faraone. Anto? Qua. Il faraone. Qua. La città romana. Il faraone. Era venero. Il facchiero Casimiro. Così. Quanto, quattro, l'emme, l'emme, viene da Gerusalemme. Il faraone. Ragazze, cosa state facendo? Il tuo massaggio, stavo nel terreno. Questa sera, per Valentina, c'è Antonio. Bene. Microfonatelo. Sono Antonio. Ho 17 anni. Vengo da Pada e sono venuta per incontrare Valentina. Il mio segno particolare è la bellezza. Grazie Antonio. Valentina, dici, cosa ne pensi di Antonio? Sì, lo possiamo tenere. Dici? Valentina, cosa dici? Lo tieni sto pirla? Ma sì, su, lo tenerò. Questa sera, dove vai? Ritorna indietro. Pronti? Questa sera, per Antonio c'è Valentina. Parapapaparara, 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 parapapaparara. Microfonatelo. Siamo a una sfilata. Siamo a una sfilata. Giacche di pelle. Siamo in un atelier di... Che produce giacche di pelle. Obiettivo raggiunto. Ogni giorno, almeno una volta al giorno, kebab. Vero? Sì. Sono le cinque e siamo pronte per lasciare la nostra camera. Colazione alle cinque di mattina, aspettando il taxi, e Muezin che canta. Pesciolino, vai! Chi dorme non piglia. Chi dorme non piglia? Chi dorme non piglia? Ancora ancora vai vai. Ancora ancora vai.